Scuola e scontro, proteste per il Green Pass, vaccini agli studenti o didattiche a distanza, la linea di De Luca scatena la rabbia del mondo educativo e intanto i ristoratori sono di nuovo sul piede di guerra contro l'obbligo del certificato verde per i clienti. Datteri, disastro in mare, scatta la maxiritata, disastro ambientale, questo è il reato contestato ai pescatori di frodo nella peninsola sorrentina, l'inchiesta della procura di torre annunziata della Guardia Costiera che ha portato a 21 misure cautelari in quattro regioni. Maresca Manfredi lite sui cambi di casacca, elezioni comunali e liste pulite, il nuovo duello a Napoli, l'ex PM Siscaia contro i transfugi di Forza Italia e chiede un faccia a faccia all'ex ministro sulla questione morale, intanto Manfredi incassa anche il sostegno di Europa Verde. Strage bus 8 anni dopo, giustizia per i 40 morti, oggi l'anniversario della tragedia di Acqualonga nella Napoli-Bari, Monteforte ricorda le vittime quasi tutte di Pozzuoli con un monumento, i familiari aspettano ancora giustizia nel processo d'appello. Colpi di pistola in strada, paura a Benevento, l'episodio si è verificato nel popoloso rione Capodimonte, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Solo per puro caso nessuno dei passanti è rimasto ferito, la polizia ha avviato le indagini, ma è mistero. Crescent lite infinita, il caso va in Cassazione, gli ambientalisti di Salerno non si arrendono, Italia Nostra e Comitato No Crescent hanno confermato il ricorso davanti alla Suprema Corte, quell'edificio è abusivo e ha stravolto il corso del fiume Fusandola. Buongiorno dal TG 696, in apertura al Covid, in Campania tornano gli Open Day per convincere gli indecisi, ma è battaglia sulle elezioni in presenza. De Luca sfida il Comitato e il Governo e prepara la stretta, a microfono di 8 Channel, la rabbia del coordinamento scuole aperte. Sentiamo. Covid in Campania si prova a convincere gli indecisi. A Napoli le ASL preparano la campagna vaccinale d'agosto, in programma Open Day da sabato a martedì, mentre si pensa ai camper mobili per immunizzare i bagnanti sulle spiagge flegree. Ma il fronte più caldo in queste ore resta quello della scuola. In regione circa 300.000 studenti mancano all'appello. De Luca ribadisce che senza siero si procederà con la didattica a distanza, posizione che scatena le ire di prof e docenti, ma anche del coordinamento scuole aperte. La nostra posizione è chiaramente quella, prima di tutto, di lasciare libertà rispetto alla vaccinazione, atteso che noi siamo assolutamente pro-vaccinazione. Ma questo non può essere un palliativo, non può essere assolutamente la scusa per coprire altre problematiche che esistono rispetto agli edifici scolastici. Non riteniamo utile l'estensione del Green Pass, ad esempio, anche alle fasce di popolazioni più giovani, anche perché tale circostanza sarebbe escludente rispetto anche ai loro pari europei. E di scuola ha parlato anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, contestando il piano di De Luca. La campagna a primeggiare con i dati peggiori che vengono in parte dalla dispersione scolastica e in parte dalle prove invalsi, come abbiamo visto in questi giorni. Per De Luca la scuola non è una priorità. De Luca considera un fatto normale che si debba rinunciare già adesso alla scuola. La corsa al Green Pass, anche in Campania, si scontra con le proteste degli esercenti sul piede di guerra a titolari di bar e ristoranti che si dicono ancora penalizzati questa sera alle 20 in nuova contestazione in piazza a Salerno. Sarabotte. In questi giorni è corsa al Green Pass anche in Campania, ma non mancano le polemiche e le proteste in piazza. Ad essere preoccupati sono gli esercenti. I titolari di bar e ristoranti temono che il provvedimento possa penalizzarli ulteriormente. Non è questa la strada da seguire, dicono. Ci sarà un pochettino di casino, di affluenze, di persone, di chi deve stare all'interno, chi deve stare all'esterno. Parliamo di un locale che chiaramente può avere un po' di fila all'esterno per entrare con posti ridotti. Usare poi il bagno che sta all'interno, le persone che sono vaccinate possono lamentarsi nel dire che all'interno non devono entrare chi non è vaccinato. Quindi non sappiamo, magari attendiamo una cosa un po' più definitiva, una cosa più chiara. Siamo sempre alle solite, ristoranti e bar, sempre le stesse discussioni, però come si dice per la legge dobbiamo sempre accettare tutto. Abbiamo passato tutto questo, questo sarà un altro piccolo traguardo da passare. C'è anche chi ritiene il Green Pass una tutela per la sicurezza propria e dei propri clienti. Io sono pro vaccino, quindi pro Green Pass e per me va benissimo così. I miei clienti quando entrano mi mostrano già il tesserino subito, anche se non è andato ancora in vigore. Quindi per me va benissimo così. Mi sento più sicura, ecco, e si sentono sicuri anche i miei clienti. Quindi per me va benissimo. Secondo lei sarà difficile gestire le persone con Green Pass e senza Green Pass, proprio gli accessi. Sicuramente, ci sarà sicuramente una cosa impossibile. Blitz nella notte, presi 22 datterari in tutta Italia da diverse ore in corso ancora. Una vasta operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Guardia Costiera della Campania per gravi reati di disastro ambientale collegati alla raccolta di datteri in mare. A conclusione di indagini coordinate dalla Procura di Torre, annunziata e condotta dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, il GIP del Tribunale Oplontino ha emesso un'ordinanza di applicazione delle misure cautelarie nei confronti di 21 persone residenti tra Campania, Puglia, Lombardia e Liguria. Per la raccolta illegale dei datteri di mare è stata devastata la costa rocciosa della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Coinvolti anche i titolari delle pescherie utilizzate come rivendite dei datteri di mare, specie protetta che impiega 20 anni per scavare la roccia. Elezioni comunali, liste pulite, nuovo duello tra Manfredi e Maresca. L'ex PM si scaglia contro i transfugi di Forza Italia e chiede un faccio a faccia all'ex ministro sulla questione morale. Lo scontro tra il candidato a sindaco del centro-sinistra Gaetano Manfredi con il candidato del centro-destra Catello Maresca segna la scena di questa campagna elettorale. Ad accendere la mice è stato l'ex magistrato che rispolvera la questione morale delle liste pulite dopo che numerosi esponenti di Forza Italia hanno lasciato per andare a sinistra a sostenere l'ex rettore della Federico II. Maresca invita il suo competitor a fare un passo indietro. Se raccatti tutti quelli che io scarto potrai anche vincere, ma a quale prezzo, ha detto l'ex PM. Dallo staff di Manfredi trapela la grande sorpresa nel leggere da parte di un magistrato una nota così carica di volgarità e nel frattempo l'ex ministro Di Conte incassa anche il sostegno di Europa Verde. La lista sarà capeggiata probabilmente dal consigliere Francesco Borrelli. Non solo, l'altro colpo messo a segno dal candidato di centrosinistra si chiama Sergio Colella, già candidato con De Magistris nel 2016. Nel frattempo arrivano dal governo i primi segnali per i comuni in dissesto, come Napoli. E Manfredi dal suo profilo esulta. Dei 660 milioni mesi a disposizione, il 40% spetterà la nostra città. Maresca invece ha incontrato i lavoratori della Whirlpool, promettendo il suo massimo impegno per portare l'avvertenza nelle giuste sedi istituzionali. Sullo sfondo l'incertezza sul giorno del voto. Tra il primo e il 9 agosto prossimi sarà pronto il decreto che fisserà la data delle elezioni. Si voterà il 26 e il 27 settembre, oppure il 3 e il 4 ottobre. Pandemia permettendo. Ecco perché si stringe ora sui nomi e sui candidati. Entro Ferragosso gli elenchi dovranno essere tutti definiti. Sono trascorsi otto anni dalla strage del bus che precipitò dal viadotto Acqualonga in Irpinia. Oggi i familiari delle vittime ricordano i loro cari. E in serata sotto il ponte verrà inaugurata una scultura dedicata proprio alle 40 vittime. Sentiamo. Si canta, si balla. Una gita di ritorno spensierata dopo tre giorni tra Telesederme e Pietrelcina. Nel Pullman, partito da Pozzuoli, ci sono adulti e bambini, madri, padri, nonni, nipoti. Urla di gioia, risate, musica, rotte improvvisamente da un silenzio assordante. Negli occhi di chi viaggia la paura di quel volo dal ponte alto più di 40 metri. 40 come il numero delle vittime di quella sera. Era il 28 luglio 2013. L'autostrada 16, all'altezza del territorio di Monteforto Irpino, in pochi minuti, si trasforma in un inferno. Il bus, finito al di sotto del ponte, è un groviglio di lamiere e sangue. Il lavoro più duro lo hanno fatto proprio i soccorritori, che per tutta la notte hanno dovuto estrarre i corpi e allinearli uno accanto all'altro, coperti dal lenzuolo bianco. È questa la scena che rimarrà nella storia di quella strage. I sopravvissuti e i familiari delle vittime hanno assistito al lungo processo sotto accusa i tecnici di autostrada, il proprietario della società a noleggio del bus e anche qualche dirigente della motorizzazione di Napoli. Oggi, a distanza di otto anni, è in corso la seconda fase del processo in appello. I familiari sono stanchi e non hanno voglia di raccontare perché nessuna condanna, nessun processo gli potrà restituire i loro cari. Partorina De Felice è sopravvissuta, ma nel pullman ha perso il marito e i genitori. Anche la vita di Alba Lanuto da quel giorno è cambiata. Sua figlia è una miracolata che lo deve a sua madre. Nel 2013 la piccola aveva solo nove anni, quando sua nonna, avendo capito cosa stava accadendo, l'ha stretta tra le sue braccia prima di precipitare. Anche Giuseppe Bruno ha dovuto subire un grave lutto con la perdita di entrambi i genitori. Un cane randaggio è morto a causa di ferite d'arma da fuoco a Ercolano, in provincia di Napoli. Ieri sera, intorno alle 21.30, i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti in via della Barca Iola, dove, in un terreno incolto, due residenti del posto attivi nel volontariato avevano trovato il corpo senza vita del cane, nel quale si sono poi presi cura. Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari dell'Asla Napoli 3 Sud, di Portici, per l'autopsia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. E paura ieri sera a Benevento per una serie di colpi di pistola esplosi in strada nel popoloso quartiere di Capodimonte. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sull'inquietante episodio indaga la polizia. Almeno tre i colpi di pistola esplosi nella tarda serata di ieri a Rione Capodimonte a Benevento. Paura per i residenti che a quell'ora erano in strado sui balconi a causa del gran caldo. L'inquietante episodio è accaduto in mia Ciletti, a pochi metri dalla chiesa di San Giuseppe Moscati. È qui che un uomo, arrivato a bordo di un'auto, ha arrestato la marcia di fronte ad una serie di palazzi di edilizia popolare ed ha impugnato l'arma per sparare. Uno, due, forse tre colpi all'indirizzo di qualcosa che gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa fosse. Non è escluso che il malvivente abbia però premuto il grilletto mirando semplicemente in aria. Solo un gesto intimidatorio dunque. A far scattare l'allarme sono stati residenti impauriti che immediatamente sono rientrati nelle loro case. Sul posto sono accorsi gli agenti della volante, la squadra mobile e la polizia scientifica che per alcune ore hanno effettuato i rilievi e i sopralluoghi durante i quali è stato rimenuto un solo bossolo sul quale ora si concentrano le analisi tecniche per cercare di risalire all'arma utilizzata. Nel frattempo gli agenti della mobile hanno ascoltato alcune persone ed ha avviato le indagini per cercare di fare luce sull'accaduto e identificare l'autore. L'episodio segue quello registrato alcune settimane fa, questa volta in Mia Bari a Rione Libertà, sempre Benevento, dove qualcuno aveva sparato un colpo di pistola contro il portone di un'abitazione. Sul processo crescent a Salerno non è ancora detta l'ultima parola. Italia Nostra e i comitati attendono di leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione in corte d'appello e ai microfoni di Otto Ciannell annunciano il ricorso in Cassazione. La sentenza della corte d'appello di Salerno ha confermato il pronunciamento dei giudici di primo grado, tutti assolti nel processo crescent, ma gli ambientalisti non demordono e si preparano al ricorso in Cassazione. Motivazioni illustrate in una conferenza convocata da Italia Nostra e dal comitato no crescent, anche per fare il punto sugli altri procedimenti giudiziari in corso. Il dispositivo della corte d'appello ha confermato la falsità della nota della sovrintendenza così come aveva statuito il tribunale di primo grado. Questo che cosa significa? Significa che il problema non è risolto perché le nuove autorizzazioni paesaggistiche che sono state ordinate dal Consiglio di Stato sono state ordinate sulla base di un atto illegittimo. Quindi per noi rimane una edificazione abusiva. Poi abbiamo sempre pendente l'appello in Consiglio di Stato che è stato fissato l'anno scorso il 20 maggio ma è stato rinviato d'ufficio dal Consiglio di Stato per l'assenzione di due magistrati. Noi già abbiamo sollecitato e quindi riteniamo con tutta serenità nell'interesse della cittadinanza che questa problematica non sia possibile definirla nel senso voluto dall'amministrazione. L'obiettivo è far valere le ragioni ambientaliste in una battaglia avviata anni fa e che è destinata ad andare avanti anche in futuro. Continueremo a fare in modo che la città non dimentichi che questa edificazione è totalmente abusiva ed è solo un guaio, un danno per la città. La Regione Campania non garantisce il diritto alla salute in Irpinia e l'affondo del consigliere regionale Vincenzo Ciampi che rilancia anche la battaglia per Solofra. Si ripercorrano anche le strade giudiziarie per salvare l'ospedale Landolfi. Sentiamo. Per salvare l'ospedale Landolfi ora si muovono anche il comune di Avellino e le associazioni del territorio che si uniscono alla battaglia legale dell'amministrazione comunale di Solofra. Già scelto illegale l'avvocato salernitano Tino Iannuzzi per presentare il ricorso al TAR contro la delibera 201 della Regione Campania che di fatto sopprime il pronto soccorso del presidio Solofrano. Per il consigliere regionale Vincenzo Ciampi dall'inizio in prima linea a difesa dell'Andolfi è giusto seguire ogni strada. Per far rivivere l'ospedale di Solofra vanno battute tutte le strade possibili. Se la strada politica non funziona o sembra non funzionare al momento è giusto e legittimo che si prove anche la strada giudiziaria. E allargando il discorso anche al frangipane di Ariano l'esponente 5 Stelle rincara la dose. Palazzo Santa Lucia in Irpinia non sta garantendo il diritto alla salute. Per la Regione Campania e per De Luca l'Irpinia e la sanità irpina non è una priorità. Noi in Irpinia abbiamo bisogno di una sanità che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, di garantire il diritto alla salute dei cittadini. In questo momento il diritto alla salute dei cittadini irpini non è assolutamente garantito da una Regione che è assolutamente sorda alle esigenze dell'Irpinia. Intanto sul fronte Covid si registrano due positivi nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 200 tamponi. E nel pomeriggio fino alle 23 il camper della salute farà tappa a Via dei Concili nel cuore della Movida Vellinese per incentivare quanti più ragazzi possibile alla vaccinazione. Nuovi mezzi per ripulire il centro storico di Salerno e rispondere alle tante richieste dei cittadini che denunciano uno stato di abbandono e degrado. Li ha presentati questa mattina il comune con Salerno Pulita. Degrado e città sporca, il comune di Salerno e Salerno Pulita intervengono presentando in piazza Largo Campo nel cuore cittadino una nuova mini lavastrada elettrica. Nei prossimi giorni arriverà anche una mini spazzatrice e la risposta alle tante richieste dei residenti del centro storico. È una risposta innanzitutto alle giuste lamentele degli abitanti del centro storico che sono spesso vittime anche di vandalismi da parte di queste bande di ragazzini. Questo non significa trascurare la zona orientale anche perché noi stiamo approvando un piano di investimenti che preveda lavastrade elettriche e spazzatrice elettriche anche di dimensioni più importanti con le quali saranno fatte meglio e in maniera più efficiente anche le strade della zona orientale di Maricondo, di Pastena, di Torrione, del centro in generale. Credo che daremo un'ulteriore spinta alla pulizia delle strade. Il sindaco Napoli ha annunciato anche più attenzione al decoro cittadino e di aver sollecitato l'ASL mettendo in campo una sinergia per debellare topi e blatte che invadono i quartieri. Sono stato contattato proprio ieri dal dottor Sagesetozzi che mi ha chiesto un affiancamento con la ditta che curerà questa derattizzazione e deblattizzazione per fare in modo che il nostro personale che conosce in un modo particolare le criticità possa suggerire il modo più razionale dello svolgimento del servizio. Nannini, Raniere e Mahmood Levante sono solo alcuni degli artisti in scena per la 42esima edizione di Città Spettacolo in programma dal 24 al 30 agosto. Vediamo. È una grande Città Spettacolo dove tutta la città sarà impegnata come avete visto dal programma e poi anche tutta la giornata. Renato Giordano conferma la consolidata formula dei 1020 per accontentare ogni gusto per la 42esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo in programma dal 24 al 30 agosto. Mahmood Levante, Massimo Ranieri, Enzo Avitabile e Gianna Nannini sono solo alcuni dei grandi nomi della musica che faranno tappa in Piazza Risorgimento. Grande rispetto per l'enorme anti-Covid ma anche la voglia di rinascere da cui il tema rinascenda e a chi lo accusa di aver snaturato il Festival risponde. Ma è gente che non vuole crescere, è gente che ricorda quando era giovane. Il mondo cambia, lo spettacolo si evolve, poi c'è il teatro. Prima c'era solo teatro, perciò non si notava. Ovvio che tu, fra Lino Musella, che magari manco sai chi è, e Gianna Nannini, becchi Gianna Nannini, ma semplicemente perché non sai chi è Musella o non sai chi è Maurizio Natoni. Tesi fortemente sposata dal sindaco Clemente Mastella che rincara la dose. È un format che registra attenzioni, interesse. In tempi quando c'era normalità arrivavano decine, decine di migliaia di persone e stavolta sarà un po' di meno, però questo verrà anche in conto alle esigenze dei commercianti, nella loro declinazione dei bar, ristoranti e quanto altro. Insomma è una bella cosa che dà anche loro un minimo, una boccata d'ossigenza di ripresa che fa molto molto bene all'economia benedentale. Il caos, commissioni al comune di Avellino, i dissidenti della maggioranza aiutano festa e fanno saltare la riunione della trasparenza. Preziosi, invece una furia, dice faremo ricorso al Presidente della Repubblica. Sentiamo il servizio. Contro questa maggioranza arrogante siamo pronti ad andare anche dal Presidente della Repubblica. Dino Preziosi è una furia dopo che al comune di Avellino è saltata la commissione trasparenza. I dissidenti della maggioranza stavolta hanno fatto il gioco di festa e non hanno garantito il quorum strutturale. È chiaro che adesso rispetto alla presa di posizione della maggioranza che io contesto perché l'arroganza non finisce mai e quindi istituzionalmente non si può avere nessun tipo di rapporto con questi signori è chiaro che loro facendo parte della maggioranza non venivano a sostenere le commissioni, ovviamente. Il caos commissioni che ora andranno anche riorganizzate per l'ennesima volta sta paralizzando l'attività amministrativa, spiega Preziosi. Inascoltati i nostri appelli alla Procura e al Prefetto. Se la Procura non inizia a mettere mano su questi atti del comune di Avellino sia la Procura che il Prefetto c'è un'arroganza amministrativa che è spaventosa. Addirittura ci si nega l'accesso agli atti, cosa gravissima perché il consigliere può vedere anche gli atti coperti da segreto e segretati e su ogni cosa trovano una scusa per non farci andare a fare la nostra attività di controllo. Il loro unico momento di vita è quello di togliere un aspetto democratico importantissimo cioè il diritto di partecipazione dell'opposizione. Fino a che le cose stanno così e le istituzioni non intervengono vuol dire che ci dobbiamo rivolgere solo elencando i fatti, le denunce fatte solo alla Presidenza della Repubblica. Le immagini del 28enne ammanettato a un palo fecero il giro d'Italia provvedimento necessario per placare la furia del giovane contro la fidanzata Salerno ha voluto ringraziare i vigili e i cittadini che corsero in aiuto proprio della malcapitata vittima di violenze. Sentiamo. Un episodio che all'epoca fece scalpore non solo per le accuse contestate quella di violenza nei confronti della fidanzata ma anche per le non poche difficoltà per frenare la rabbia del 28enne venezuelano protagonista di un fatto di cronaca lo scorso mese di giugno. L'uomo venne ammanettato ad un semaforo lungo il centralissimo corso Garibaldi per sottrarre la giovane fidanzata alle botte. Il comune di Salerno ha voluto premiare il coraggio dei vigili urbani e dei cittadini intervenuti per soccorrere la malcapitata e assicurare il 28enne alla giustizia. È importante sottolineare come l'apporto da parte dei cittadini che hanno dato il loro contributo quando hanno visto uomini della polizia municipale in un episodio specifico in difficoltà e c'è stata questa condivisione nel creare la migliore condizione possibile per superare un momento di difficoltà che in quel momento si stava avendo nella nostra città. Quindi era doveroso sottolinearlo ma per dare il giusto peso e al lavoro enorme e eccezionale che svolgono gli urbi della polizia municipale di Salerno. Consegnate in tutto 20 encomi in una cerimonia che si è tenuta nella sala giunta del comune di Salerno. Ogni giorno le assicuro l'impegno è costante un ringraziamento poi particolare a parte i miei uomini va ai cittadini questi cittadini che in particolare non si sono risparmiati quindi è la parte sana della città che è preponderante e quindi ci fa molto piacere questo conforto da parte della cittadinanza. È tutto con il nostro Tg, grazie della vostra attenzione vi lascio al Tg Sport. Tg, grazie della vostra attenzione Tg, grazie della vostra attenzione